crementuccio su youtube un'intervista cosa ne pensa lei di questa grande nevigata sul paese ma ne facessi due metri giro e gira oggi ne devi cacare buongiorno pesci manuele grande guidatore di mezzi oggi abbiamo montato le catene abbiamo montato sì 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 forse è come mezzo metro questo fa becco un senso e cacolo le catene l'auto si infatti si rilassano il cazzo c'è un piacente ma quella è con emergenza non è con emergenza non è più tempo che abbiamo montato ma lui è un po' più bene a montare non so passare l'ora è un bravo no vabbè là il bus è differente lui fa la trasfine costagliore da un attimo che si è andata allora ritieni a le lote に all'in chiave chi è andata chiamare Locale